Ho visto una squadra che ha lavorato bene, sicuramente le vittorie aiutano a lavorare anche con più serenità e quindi la squadra ha lavorato bene come ha lavorato tutte le altre settimane. Mi fa piacere l'affermazione di Enian che è un'affermazione che ha preso da me, dico spesso alla mia squadra non mi interessa il risultato finale, mi interessa che voi a fine partita siate felici, vorrei vedervi felici poi la felicità di un gruppo, di una squadra molto probabilmente viene non solo dal risultato ma anche dalla prestazione quindi questo è il succo del discorso, il succo di quello che poi Enian cerca di fare suo, quello che è un pensiero della squadra. Necessitiamo anche noi di fare punti e dobbiamo fare punti per cercare di non lottare per andare pre-out e dobbiamo fare punti per cercare di lottare per andare nella griglia dei play-off quindi necessitiamo anche noi in maniera impellente, forse più del Monopoli, di fare punti. La partita che mi aspetto è una partita contro una squadra che ha iniziato il campionato per il primo anno da quando erano i professionisti ha rinunciato a fare il minutaggio, giocano senza questo vincolo. una squadra che ha nelle proprie file, in tutti i reparti, qualcosa di importante, più degli altri anni e quindi mi aspetto una squadra e una partita tosta e mi aspetto una partita tosta come se dovessimo andare ad incontrare forse un gruppo e un organico che equivale a quelle delle prime due o tre squadre di questo campionato. Allora, apriamo un discorso molto importante. È successo qui a Francavilla quello che forse da quando erano i professionisti, sette, otto anni, non è mai successo. Forse è successo in un frangente con Zavettieri allenatore che si giocava 4-3-3, altrimenti il DNA di questa squadra è stato 3-5-2 sempre. All'entrata dello spogliatoio feci mettere sette anni fa un cartello con una frase molto importante che un giocatore ti può far vincere una partita. Il gioco di squadra, il gruppo ti fa vincere i campionati, ti fa vincere più partite e quindi alla lunga ti fa vincere i campionati. La collocazione di Cisco deve essere una collocazione inerente alla squadra, inerente alla squadra, perché poi un giocatore non può farci cambiare, non può essere un giocatore che per un giocatore si possa cambiare il sistema di gioco. Quindi io penso che è vero che lui, tolto da un po' di problemi o di grattacapi, di fase difensiva, si esprime meglio, ma a me non interessa che Cisco si esprima meglio, a me interessa che tutta la squadra si esprima meglio, perché la squadra poi ti fa vincere tante più partite, mentre il giocatore, inserito nel contesto squadra, può tirare fuori il meglio, ma sempre se è inserito lui per primo nel contesto squadra. Cisco, molti di voi gli fanno i complimenti, gli rifaccio anch'io, gli rifaccio anch'io, però lui ha ampi margini di miglioramento. Deve migliorare, perché nel suo miglioramento, secondo me, migliorerà anche il gioco di squadra. Se è un giocatore che ci tiene a giocare dall'inizio in questa squadra, ripeto. Però il Francavilla ha sempre dato come priorità il gruppo, la squadra, e non al singolo giocatore. La partita contro il Taranto ce l'hanno fatta vincere tutti. Ce l'ha fatta vincere Enian in tre minuti che ha fatto. Ce l'hanno fatta vincere i difensori che hanno fatto un grande lavoro, i centrocampisti che si sono sobbarcati un grande lavoro, anche Cisco che si è sobbarcato un grande lavoro, così come Cardoselli, così come Patierno, così come quelli che sono entrati. Quindi è lì che si diventa squadra. Fossilizzarci sulla prestazione di un giocatore farebbe del bene a lui, evidente, ma non farebbe del bene a una squadra. Considerando che noi, io, e soprattutto quel DNA di questa piazza, di questa città, di questo presidente, di questa dirigenza, è stato sempre che le fortune sono state. Il gruppo, quindi gruppo squadra, gruppo dirigenziare, tifosi, tutti quanti. Non c'è una cosa che prevale su un'altra. Questo solo per puntualizzare il discorso su Cisco. Io penso che il gioco di squadra, partendo dall'attaccante, chi sarà in campo debba far sì che i palloni che arrivino in zona d'attacco, per questi signori giocatori, sicuramente signori attaccanti del Monopoli, debbano essere più possibili dei palloni sporchi, non dei palloni dove i miei difensori possono andare a giocarsi sempre, un uno contro uno a tutto campo, come è successo in precedenza. Quindi il fatto di aver cambiato il sistema di gioco non vuol dire che domani faremo lo stesso. Rientra Magliorino, ci può stare che io possa riproporre il 3-5-2, non è quello il problema. Però ti ripeto il concetto. Se tutti i giocatori giocano da squadra, quindi bene entrambe le fasi, si può fare qualsiasi sistema di gioco. Questa squadra può fare qualsiasi sistema di gioco. Se qualcuno è un po' timido, se qualcuno si dimentica, se qualcuno deve fare una fase, non una fase difensiva soltanto, ma di fare una fase, gli equilibri di squadra si trovano meno. Non abbiamo novità rispetto a settimana scorsa, dove eravamo in grossa emergenza. rimaniamo in grossa emergenza. Rientra solamente Magliorino, per il resto rimaniamo in grossa emergenza, soprattutto nel settore degli Ander, dove Cecua comunque per noi è un'assenza importante, quindi Cecua dobbiamo tenerlo, dobbiamo dimenticarcelo per un paio di mesi, così ci mettiamo l'anima in pace. E poi Murilio, secondo me, adesso non ho parlato con lo staff medico, ma secondo me ancora un paio di settimane ha bisogno per entrare al pieno della propria efficienza fisica.